Gli studi di Expo Milano 2015 Questo è l'Expo Show E noi diamo un caloroso benvenuto alla protagonista di oggi Piera la Pera L'hanno chiamata Williams, Kaiser, Decana, Ercolina, Cocomerina A volte l'hanno persino chiamata così Ehi tu! Ma lei si chiama Piera e ne va fiera Leggo che lei ha circa 4.000 anni Onestamente, possiamo ancora parlare di frutta fresca? No, no, non faccia così, non se la prenda Adesso ci guardiamo la sua scheda video Nome scientifico, Pira Comunis Da dove viene? Chi dice Europa? Chi dice Asia? Chi dice Saturno? Chi dice Orzuolallo Pop? Nome che ho inventato io Secondo i botanici, Piera la Pera è un pomo Cioè un falso frutto Nonostante ciò è sincera e leggera Come una pera Ma attenzione, non è sempre stato così Ed è difficile fare i selfie Quando non ci stai più nell'inquadratura E allora che Piera decide di prenderla Con grande sportività E oggi, che è tornata bella fuori E bella dentro Vorrebbe che tutti scoprissero le gioie Di una vita sana Per questo tiene corsi di acquagin Per tutti Ma proprio tutti E la passione per le foto? Beh, quella le è rimasta E ora, la prova di abilità Eccezionale! Al mio compleanno ti invito a tagliare la torta Anzi, non ti invito Piera, la Pera! Avvio, Zucchila! Expo Milano 2015 Dal 1 maggio al 31 ottobre Acquista il tuo biglietto Su Expo2015.org